Lo sapevi che in Alto Adige ogni anno arrivano oltre 7 milioni di turisti, per un totale di oltre 30 milioni di pernottamenti? L'Alto Adige è una meta piuttosto ambita e non c'è da meravigliarsi visto che ha parecchio da offrire ai suoi ospiti. Le Alpi e il clima mediterraneo, la città e la natura, ce n'è per tutti, sia d'estate che d'inverno. L'Alto Adige è una destinazione attrattiva tutto l'anno. Per far sì che i turisti continuino ad apprezzare la splendida natura altoatesina, è importante che il turismo lavori in modo sostenibile. Collaborare con l'agricoltura, proteggere la natura, mantenere puliti i sentieri e alta la qualità dell'acqua dei nostri laghi sono solamente alcuni esempi di come questo possa essere messo in pratica. E cosa c'entra il turismo con l'economia? Con oltre 4 mila hotel e 30 mila posti di lavoro, il turismo altoatesino costituisce un importantissimo fattore economico. Come puoi vedere, l'Alto Adige non è solamente un'incantevole destinazione di viaggio, ma il turismo offre numerose opportunità lavorative e interessanti ambiti professionali. Puoi trovare altre interessanti curiosità su questo tema nel materiale didattico dell'IRE.